Su Billy Elliot, al centro, ora voglio che osserviate attentamente ragazze, primo arabesque, giù le spalle, guarda avanti, oltre la punta delle dita, bene, acceleri signor Bray, avanti, girare, fissate un punto, guardatevi, guardatevi nello specchio, santo cielo, che cos'era questo? Oh, che succede? No, niente, preparo uno e due, sentite il peso, bene sulle gambe e pirouette giù, Alzati Trovati un pezzo di quel cavolo di muro e focalizzati su quel punto, poi gira la testa e ritorna su quel punto, prepara, uno e due e... Fa un culo Hai trovato il punto? Prepara 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 Vai 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 Vai, Billy Che cosa ti avevo detto delle braccia? Avanti, tornate alla sbarra Detto tra noi mi sembri uno scemo, figliolo Vai Vai Verso Grazie a tutti.